Sorprendente per la sua ubicazione e la sua imponenza, il forte di Tourneau non può che suscitare curiosità in chi lo visita. Garitte di Vedetta, muraglie, fossati e caserme si sovrappongono sulla cresta della Serre dell'O, con un dislivello tra i 1297 e i 2008 metri. Questo complesso fu edificato in varie epoche, la parte più antica risale al 1843, le ultime modifiche al 1926.